ciao a tutti io sono alessandro ho 29 anni e sono way specialist del punto vendita di signor vino verona portanova l'amore per il vino mi è nato quando ero dall'altro lato del pass perché prima di entrare nella grande famiglia di signor vino facevo il cuoco nella mia regione triuli veneta e julia poi nella ricerca della perfezione e dell'abbinamento soprattutto perfetto mi sono sempre voluto interessare a quello che era il mondo del vino e la famiglia signor vino mi ha garantito questo soprattutto con i corsi di formazione che mi hanno fatto scoprire un sacco di realtà locali italiane di cui francamente quasi ignoravo l'esistenza il vino che vi presento oggi è il brunello di montalcino di castelli martinozzi una realtà giovane a 10 chilometri di montalcino il loro stile tradizionale affinamento di tre anni in botte grande che si percepisce all'olfatto in questa bellissima nota buosè che va a mescolarsi a note di sottobosco e di frutta matura un vino non troppo arrogante perfetto per chi deve approcciarsi al mondo del brunello di montalcino e soprattutto per chi viene a trovarci nel nostro ristorante un connubio ottimo con la nostra tagliata